aggiustatemi la verità aggiustatemi e così è stato sinceramente non potevo mangiare sorridere pochissimo diciamo poi tramite amici quella trovato questa persona giuseppe massa dico la verità ci siamo sentiti per telefono mi ha spiegato un po la situazione che ho accettato subito perché gli ho dato seriamente fiducia e poi sono andato al mio carissimo dentista perché lo mostro è proprio una persona incantevole sia non solamente per il lavoro che lui mi ha fatto diciamo perché parlo personalmente per me ma proprio con me come un amico gli ho detto io sono nelle tue mani non ti dico altro fammi andare col sorriso non sorriso solo dalla bocca ma sorriso dentro perché quando me ne vado a casa ti ricorderò per tutta la vita